Ciao ragazze e bentornate, questo è il video dei miei regali di Natale, infatti chiedo scusa sempre per l'abbigliamento ma sto girando un po' di video ora che ho un attimo di tempo, anzi ho qui la bambina che sta girontolando nella stanza, infatti ho anche un occhio per lei perché ho paura che ti faccia male. Comunque passiamo subito a questo video dei regali di Natale, non sono tantissimi i regali, anzi scusate un attimo ma devo prendere un regalo che stava qui dietro i tablet, scusatemi ogni tanto do un'occhiata alla bambina. Allora passiamo subito ai regali di Natale, ho ricevuto da parte di mia madre questa borsa marrone grandissima che va a spalla, all'interno è molto molto capiente, ci sono anche i gancetti per la tracolla, non so se si vede. E all'interno di questa borsa grandissima c'era anche la borsa piccolina con, vedete, i gancetti, anche questa per la tracolla, per una borsa a tracolla. Ed è di questo panno morbidissimo, veramente è una bellissima borsa, questa è stata una chicchetta. Un altro regalo che mi ha fatto mia madre sono questi stivali, ve ne faccio vedere soltanto uno. Praticamente hanno la suola con questo gommone che è utilissimo per l'acqua, sono scamosciati, color cammello e dentro hanno questa lana fino in fondo, fino a qui. Sono fantastici, sono caldissimi e sono comodissimi, sono contentissima di aver ricevuto questo regalo. E sempre la mia cara mammina mi ha regalato il bracciale della Ops, questo qui con il cuore in resina bianco. Tutti quanti conoscerete questo bracciale e insomma questi sono stati i regali della mia mamma. Poi ho ricevuto da parte dei miei nonni dei soldini e da parte di mia sorella ho ricevuto questo fantastico profumo che è Valentina di Valentino. Faccio vedere la bottiglietta perché è veramente bellissima. Qui c'è il tappo di sicurezza e questa è la bottiglietta con questi fiorellini in ferro, veramente bellissima. Io questo profumo lo utilizzo proprio nelle occasioni, no vabbè, lo utilizzo anche giornalmente, però cerco di non esagerare, di tenermelo un po' riservato. Attento, attenta che cadi, scusate, attenta, brava amore, insomma, scusatemi, questo è un video un po' strano. E niente, questi sono stati i miei pochissimi, però buoni, regali di Natale e diciamo che poi tutti quanti si sono concentrati a fare i regali alla bambina come è giustissimo che sia. E poi io ho acquistato, mi sono fatta un autoregalo, ho voluto provare ad acquistare dal sito Aliexpress. E ancora devono arrivare, magari quando arriveranno poi ve le farò vedere, se arriveranno spero di sì. Mi sono voluta comprare, l'ho comprato su questo sito perché, insomma, non sapevo. Amore, vieni da mamma, insomma, ho acquistato due rossetti MAC, il Ruby Woo e il Barbie Pink, se non mi sbaglio, non ricordo bene ora. Amore, vieni, guarda che ti dà mamma. Amore, è un macello. E poi mi sono comprata la Naked 1 e 2. Io ora voglio vedere come sono questi prodotti da questo sito. Niente, quando arriveranno girerò sicuramente un video su questi prodotti. Ah, è un altro autoregalo che mi sono fatta. E' stato questo specchio della Innofit con la luce. Vedete? E da un lato ingrandisce tantissimo e dall'altro uno specchio normale. Perché io ce l'avevo lo specchio così, però senza la luce. però l'ho lasciato in un'altra casa. E niente, questi sono stati i miei regali di Natale. Io vi saluto, vi chiedo scusa per questo video un po' movimentato. Vi ringrazio, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!